vai ricordo sempre la mail in europa che ottenerai risalita del terpesto staremo a vedere intanto intanto in giro si parla di maltempo anche perché dicono che ci aspettano dieci giorni di pioggia battente si va a votare con ombrello e cappotto quindi è una perturbazione di origine atlantica nei prossimi dieci giorni pioggia temporali diffusi e questo è quanto per cui dobbiamo noi siamo insoliti